Buon inizio settimana a tutti, buongiorno, oggi è lunedì 7 dicembre 2015, questa è come sempre la rassegna stampa della mattina, quella delle 7.30, che comincia con il santo del giorno, oggi è un santo famosissimo, i milanesi, anche quelli che stanno a Fano, quelli che stanno nelle Marche, che ci seguono, lo ricordano con tanto affetto, Sant'Ambrogio, Vescovo, oggi inizia poi c'è la fiera degli Obey, insomma per i milanesi si entra nel clima natalizio, il sole è sorto alle 7.26, 16.31 invece il tramonto, cielo nuvoloso con nuvole basse in parziale dissolvimento nel corso del pomeriggio, avremo temperature in lieve diminuzione, il mare sarà quasi calmo, attenzione alle foschie, alle nebbie anche domani, poi cielo nuvoloso per 8 dicembre, domani festa, giornata dell'Immacolata, dicevo cielo nuvoloso, soprattutto nuvole basse sul litorale, poco nuvoloso invece con ampie schierite nelle zone dell'entroterra, le temperature sono stazionari e quelle minime, mentre sono in lieve aumento le temperature massime, i venti sono nord-occidentali, dunque per i prossimi giorni avremo ancora giornate più o meno così, come quelle che stiamo avendo in questi giorni, stabili, poco evolutive, caratterizzate dalla presenza di nuvole basse e foschie, che purtroppo ci tranno compagnia ancora per i prossimi giorni. Per fortuna non c'era la nebbia ieri a rovinare la festa dell'accensione dell'albero, quindi cielo pulito, si è messo in mostra questo albero che finalmente è stato acceso ieri, è stato anche fotografato, tanto fotografato questo albero di Natale in piazza 20 Settembre, un albero che dà spettacolo, scrive il Corriere Adriatico, inaugurata quest'opera alta 12 metri, con giochi d'artificio e un cielo di stelle luminoso. Ieri piazza 20 Settembre era gremitissima, tantissima gente, abbiamo trasmesso anche noi in diretta l'evento, questa una ventina di minuti, una ventina di minuti nei quali si è potuto vedere anche questo spettacolo di luci e di colori, compreso i fuochi d'artificio finali sulle notte del Pater Nostra. Insomma, una bella serata, è un po', come dire, la rivincita dell'albero. I commenti, i commenti su Facebook più o meno, ma qualcuno dice mi devo ricredere, però insomma preferisco l'albero vero. Insomma, comunque la si pensi, sicuramente sarà un albero che farà concorrenza a quello di Pesaro, se non altro per curiosità. Ieri mattina i componenti della Proloquo hanno accompagnato anche gruppi di turisti in visita alla città, proveniente da Osimo, Bologna, varie città della Toscana, con un'immancabile visita al presepe di San Marco, scrive il giornale, il giornale delle Marche, l'atmosfera antalizia proseguirà con mercatini anche nella giornata di oggi e nella giornata di domani. Sempre sull'albero andiamo a vedere allora il resto del Carlino, show di luci e di musica in piazza, il riscatto dell'albero scultura dopo la polemica, la beta artistico mette tutti d'accordo, 5.000 persone con il naso all'insù, è emozionato anche il sindaco di Fano Massimo Seri, eccola qui questa bella foto che il giornale pubblica con la torre campanaria sulla sinistra, queste stelle che illuminano il cielo, oltre 6.000 sono le lucine, i led, che sono distribuiti sui 12 metri d'altezza, appunto che l'albero, l'altezza dell'albero. Anche il messaggero naturalmente dà spazio a questo appuntamento di ieri in piazza, l'albero delle polemiche, anche qui il titolo conquista la città, piazza gremita per la cerimonia dell'accensione, il sindaco dice anche Bolzano vuole prenderlo come modello, il vice sindaco invece Marcheggiani, abbiamo dato la nostra versione del Natale, meno spettacolare, probabilmente si riferisce al confronto con quello di Pesero, ma più elegante ed in linea, dice Marcheggiani, con il senso dell'evento. Poi, restando sempre su questa pagina del messaggero, a Urbino, Urbino incanta con la festa del Duca d'Inverno, 10.000 visitatori invece a Monbaroccio dove ci sono anche lì i mercatini e un paese che è gemellato con la città di Bolzano. Tante sorprese per il ponte dell'Immacolata che stiamo vivendo oggi e domani, insomma, anche per il presepe vivente in stile rinascimentale, siamo sempre evidentemente ad Urbino. Poi c'è la cronaca su questa pagina, la vedremo tra un istante anche sugli altri quotidiani. Allora, adesso apriamo, torniamo sul Corriere Adriatico, sulla morte a Tavoleto, sulla morte di quella donna di 47 anni, ungherese, da tempo residente a Morciano di Romagna, trovata semicarbonizzata la sera di venerdì scorso, l'ipotesi investigativa è quella del suicidio, ma è aperta ancora la pista anche dell'omicidio. Intanto si attendono gli esiti dell'autopsia che è stata eseguita presso la camera mortuaria dell'ospedale di Urbino. Stop alle case della salute, dalla pagina di Pesaro e Provincia, da Fossombrone, l'obiettivo dei 5 stelle, il deputato Cecconi dice Ceriscioli l'aveva promesso. Faremo di tutto per bloccare la delibera regionale 735, che dal 1 gennaio trasforma i piccoli ospedali in case della salute, senza nemmeno sapere in che modo e con quali tipologie. Almeno questo è il commento di Andrea Cecconi, che è intervenuto a Fossombrone, per anticipare l'apertura della competizione di primavera per le comunali, perché a primavera si vota per il nuovo sindaco a Fossombrone, e nelle quali il movimento di Grillo, dei 5 stelle, correrà da solo con un proprio candidato. Andiamo sull'altra pagina, la pagina di Pesaro, adesso invece del Corriere Adriatico. Si parla di un evento, l'evento Rinascimento Segreto, evento per cultura e turismo, Sgarbi, Vittorio Sgarbi anticipa i contenuti, in primo piano Dossodossi. Poi questa sarà tra l'altro l'occasione, la mostra da maggio ad ottobre, in anteprima per il biglietto unico per i musei di Pesaro e Urbino. C'è un altro paese che sicuramente gode di una fama, soprattutto per quanto riguarda le candele, legate alle candele, in particolare nel periodo natalizio, che è il paese di Candelara. Pensate che alle 18, alle 6 del pomeriggio, gli ingressi sono stati chiusi per mezz'ora e c'è stato un caos aviario intorno al paese indescrivibile. Per il ponte sono arrivati 65 pullman, avete capito bene, 65 pullman. La Proloco conta circa 10.000 persone. Questa è la cronaca di questo evento che richiama davvero sempre tanta gente in quel paese. Allora, vediamo adesso invece il resto del Carlino. La tragedia, la tragedia di un anziano, un anziano che è andato nell'orto, probabilmente si è sentito male ed è caduto nel torrente. E' successo a Pian di Meletto, dopo una notte di ricerche, questo uomo andava a funghi, poi in realtà qualcuno dice che andava nell'orto, ma insomma comunque era vicino a questo torrente, si è sentito male, probabilmente è caduto dentro e lo hanno ritrovato privo di vita. Italo Cancegliere, un pensionato del 34, che abitava appunto a Pian di Meletto, lo hanno trovato senza vita in una pozza di un torrentello che sfocia nel Foglia, ieri mattina alle 8 e mezzo, sempre nel territorio di Pian di Meletto, in località Maestadina, a circa 2 km dal paese. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, era partito da casa il giorno prima, intorno alle 20 di sabato è stato dato l'allarme dai figli che non lo hanno visto rientrare. I pompieri con il gruppo Cinofili e il gruppo Fluviale lo hanno cercato per tutta la notte, ma purtroppo poi è stato ritrovato al mattino, come dicevamo, senza vita. I pompieri invece cercano di salvare un cane finito in una tana, appartiene ad un cacciatore del luogo, è stato perso durante una battuta, tentativi vane, due ore sopra la buca, con le sonde e altri strumenti, ma dell'animale non c'è traccia. I pompieri l'hanno cercato ieri mattina per quasi tre ore, si tratta di un cane appartenente ad un cacciatore che si è infilato, si è infilato in una tana, forse mentre seguiva un animale, in un bosco vicino a Strada San Donato, località vicino a Ginestreto, siamo sempre nei pressi di Pesaro. Incidenti, ieri una giornata bestiale, scrive il giornale, il Carlino, incidenti, ingorghi, cavalli sciolti, insomma una domenica molto calda, qui c'è la cronaca di tutti questi incidenti, nel pomeriggio per una città, quella di Pesaro, intasata. Folla anche a Monbaroccio, come dicevamo, e a Candelara. Sotto la notizia dell'albero di Fano, Ponte dei Conciatori, firma anche la Befana, siamo ad Urbagna, questo paese che sta vivendo un disagio fortissimo, che è questo ponte che è stato chiuso ormai da diversi mesi, che costringe gli automobilisti a fare tutta una serie di vie e soprattutto costringe a passare gli automobilisti dentro la città, dentro il paese, che insomma non è mai una cosa strepitosa quella di far passare tutto questo traffico che prima passava invece in questo ponte, il ponte dei Conciatori, dentro il paese, insomma. E quindi firma anche la Befana, come dire, fatta la svelta, ci metto pure io la firma. Andiamo a vedere adesso la pagina di sport invece del resto del Carlino. Fano, Gucci, tra gioia e rabbia, Monticelli, un inutile assedio. Allora, ieri l'Alma Juventus-Fano ha giocato in casa contro Monticelli, 1-0 il risultato finale, dunque un Fano che torna per fortuna a vincere, i Granata tornano a vincere in casa dopo oltre due mesi, un tempo per parte, gli Ascolani temibili anche con un uomo in meno. Sotto invece troverete, come sempre, la cronaca dagli spogliatoi, o meglio i giudizi, i pareri, le considerazioni sul match. Alessandrini, che è l'allenatore del Fano, dice dalla squadra, posso solo dire bene, assurda, l'espulsione di Gucci. Mentre mister Starlone fa i complimenti al Fano, dice mi ha impressionato, ma noi, fedeli al nostro motto, non abbiamo mai mollato. La Vispeso invece ha perso. Andiamo sulla pagina del messaggero, velocemente, sotto la testata, notizie di sport, il basket, dai e non basta per risorgere, la VLKO anche a Caserta, mentre, come dicevo, la Vis cade a Matelica, Pazzaglia, pronto a mollare, l'allenatore dice i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, ma purtroppo il risultato non c'è stato, niente risultato, se domenica non ce la facciamo con il Giulianova, sarà giusto, dice l'allenatore, sarà giusto dimettermi. Poi a Borgopace, a Borgopace il Vescovo di Urbino, Giovanni Tani, dice messa per i rifugiati, ha celebrato messa per i rifugiati ospitati a Borgopace, in provincia intanto ne arrivano altri 20, alcuni sono ospitati anche a Fossombrone. Poi oggi a Fano arriva il Vice Ministro Nencini, che porta il progetto della Fano Grosseto, ma porterebbe anche dei soldi, un portafoglio con 270 milioni di euro per il primo step dei lavori. Alla Sala San Michele parlerà il Vice Ministro intorno alle ore 15 del pomeriggio. Intanto al Drudi, dice il Presidente della Camera di Commercio di Pesaro, questa visita di Nencini darà un'accelerazione. Poi sull'ex AMGA invece a Pesaro, in un dossier, 30 casi sospetti di malori tra i residenti, i consiglieri di quartiere tornano alla carica sull'inquinamento dell'ex AMGA, appunto il Sindaco di Pesaro però dice che il 90% della bonifica ormai è stata fatta. Poi dicevamo di questi profughi in arrivo in provincia di Pesaro, altri 20, altri 20 rifugiati, ma i posti disponibili sono ormai quasi tutti esauriti. Poi l'ultima pagina davvero del messaggero, il giornale quotidiano romano, anche qui la cronaca con quest'uomo. Ecco, vedete, qui scrive che invece l'uomo andava nell'orto, quello di Pian di Meleto è andato nell'orto ma non è più tornato a casa, un anziano trovato morto in un torrente. Il corpo rinvenuto ieri mattina si era pensato ad un annegamento, ma per il medico è stato un malore. La rassegna stampa di Fano TV termina qui. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona giornata, buona festa per chi fa il ponte e noi ci rivedremo mercoledì perché domani santifichiamo la festa e quindi faremo una giornata di riposo. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.